Intro Salve a tutti ragazzi Sono MickeyFerrary1 E bentornati su Kids parte 2 E siamo accolti da un 2047 Quale penso che sia l'anno E poi altra roba incomprensibile Che cosa bella Mamma mia Cioè mi ispira fiducia Soprattutto questi due Mi ispirano veramente tantissima fiducia Ah Devo scegliere Questo Questa è la di destra Ah C'è una 6% Che cosa Ehm Primo Ho fatto la scelta sbagliata E' morto No E questo è il cervello Borsa E' il libro La borsa sta qui Guarda il 1895 Questo si era capito Che accidenti è sta roba Che accidenti è sta roba Allora Qui c'è un cerchio E qui c'è Ma Da fare altro Cioè si può muovere Ma Che c'è Cricca simulato Ma che Ah Si surriscalda qualcosa Vengo scoperto Ok Ecco Ecco le chiavi Posso aprire Ok Ora quello Tutte e tre Mi serve La borsa La borsa E' questo Penso No No Mi sa che ho fallito E' ho fallito Quindi in pratica Questo è il suo subconscio E non deve succedere Cose troppo complicate Ma questo allora Questo è il libro Ma non ho visto nessuna parte Ci deve essere qualcosa Da clicca Ma qui c'è Qui c'è il giallo Ma Si vabbè E' così Davvero? Ah Era così semplice Sono stato Si si ho capito Allora Il rettangolo E' questo Il rettangolo E' giallo Il cerchio E' rosso Il triangolo E' blu Di conseguenza Il verde E' questo E' che genio Che genio Che sono Ci ho messo Un secolo Solo per capire Come Andarle a mettere dentro Come mai Non si apriva Eh che bello Eh che bello Questa è senza luce Quindi è rotta Vedi Allora qui non c'è nulla Ha colto frammento Che sicuramente Va qui Da qui Ecco Un altro frammento Ovvio Che va qui Però 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 In modo ovviamente C'è un altro Di frammento Non bloccato Si Oh va bene Che devo Selezionare L'oggetto Però eh Uh Fanno un bel po' Di casino Se provo Se provo A fare qualcosa Eh ma dai Ma si rompono tutte Qua Pur volendo Eh Cosa Ovvio E queste forbici Che ci faccio Alguardo Ok Ce l'ho fatto Si Tutto qua Qua c'era Più semplice No Questo inquietano Un poco No Ho fallito Che cosa Cosa ho fatto Ho dirottato Un autobus Noi vogliamo Te Oh Oh Wow Ce l'ho fatta Davvero Era questo E mo Questo qual è Ma che Che cosa Che cosa è Sta roba Un righello Punete Eh ma Oh Madonna Però Continua Ciao No 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 No, non capisco Non capisco ancora, cosa devo fare? Oh oh, non capisco che fosse anche qua dietro No No, ho sbagliato E se premessi l'altro? No, è uguale Non capisco che quello non fa nulla eccetto ucciderti Ok Comunque qua mi pare che stanno facendo esperimenti sul cervello dove, che ne so, una sorta di oculus rift qualcosa Cosa? Uno, uno, due, uno, uno Due, tre, 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 due Allora, questo è il primo Il secondo E tu sei il terzo No, aspetta un attimo Può essere... Per qua Due, tre, 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 due Sei un maledettissimo però Ah Uno, uno, due, uno, uno Ma questa che serve? Ma questa che serve? Eh, ma devo far scendere Questo Aspetta un attimo Questo Questo Meno Questo Uguale Questo Madonna Quindi Madonna Sono stato Ore Ore Ciò significa Che per trovare la differenza Bisogna fare questo O meno questo Per trovare questo qui Uno Due Uno Due Uno Due E Volevi Dovevo utilizzare la forbice? Davvero? Madonna Ecco Ecco Fatti il taglio di capelli come Come piace a te E levati Di mezzo Ah Allegria Questo non mi piace però Di mezzo Che Noi Noi Da Non ah ok sei un maledettissimo però ah la mano è rimasta grazie per l'infarto no la sveglia non la tocca perché so già ah ok 5 maggio dobbiamo metterlo oh era davvero quello e quei numeri da sopra che cavolo erano serviva una nulla abbiamo finito allegria comunque questo è giapponese perché mi stimo dice che ci mamma mia ci ho messo 43 minuti e 43 secondi cioè eh cioè ah vabbè vabbè ragazzoni questo è la seconda parte e vedrò di portarvi anche la terza spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima